Mi risponde con un numero, lei è piaciuta la conferenza stampa di Draghi? Da 1 a 10 che voto gli dà? Domanda all'inglese come piacere per lei Draghi bisogna sempre Vediamo se lo sa fare l'inglese Molinari Un ottimo presidente del consiglio che abbiamo appoggiato per tirarci fuori dal governo giallorosso Quindi le sue conferenze stampa sono sempre ottime anche quando ci tira le orecchie Quindi anche oggi ottime Scusa prima di andare a Venezia Grazie